C'è amiche e c'è amici, vediamo le cose che non devi mai fare con gli uomini. Allora, non devi mai fare la cozza, la donna cozza o la donna piattella, restare attaccata sullo scoglio senza mollarlo mai. Perché se ti comporti in questo modo ti dimostri bisognosa, ti dimostri appiccicosa, insomma fastidiosa, come una zecca che uno vorrebbe togliersi di dosso prima o poi. Quindi vai a generare dei meccanismi repulsivi di rifiuto nei suoi confronti. Un'altra cosa da evitare da fare è la maestrina. Questo non devi mangiarlo che ti fa male, metti la maglia che c'è tanto vento, copriti mi raccomando perché c'è tanto sole. Insomma, la maestrina, anche qua, cozza contro la parte logica, cozza e maestrina. Cozza contro la parte logica, cioè la sua parte logica dice ma chi è questa che mi deve dire quello che devo fare? Non sono sicuramente un bambino di tre anni. E un'altra cosa che devi assolutamente evitare di fare, soprattutto nei rapporti lunghi, è la classica moglie a maglia. Quella che passa il tempo, tra virgolette, a fare la maglia o comunque occuparsi di faccende domestiche, che sempre lì mettiti le pantofole e non sporcare qua e non fare là, insomma, la moglie a maglia. Perché se fai la moglie a maglia puoi non lamentarti se ti becchi un dritto e un rovescio, insomma. E quindi questa è un'altra cosa da evitare di fare. E poi, diciamo, la pettegola verso le tue amiche. Cioè dire, ah, questa è così, quell'altra è zoccola. Perché tra l'altro gli daresti solo indicazioni su quale amica corteggiare, insomma. Perché quella più zoccola magari lo intrippa e in qualche modo, oppure, insomma, gli fai venire, gli vai a suscitare delle voglie. Perché ricordati che di solito quello che, cioè i tradimenti, è facile che avvengono proprio con le tue amiche, non con delle sconosciute. Quindi se devi prestare attenzione a qualcuna, presta attenzione di più alle tue amiche. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale, avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Mi raccomando, la domanda va postata nei commenti, non mail, non altre cose. E quindi se questo video poi ti è piaciuto, condividilo con tutti i tuoi amici, divulgolo, Facebook, Twitter, Whatsapp, dove vuoi. Ciao!